Musica Purtroppo c'è ancora un incidente mortale in primo piano nel TGL News, ha perso la vita con la propria moto nell'Odigiano Paolo Andreazzo, originario di Treviso, ma da tanti anni viveva a Castel San Giovanni dove era conosciuto anche per la sua attività di imprenditore, da chiarire le dinamiche di questo schianto pare che abbia perso il controllo del proprio mezzo e purtroppo non ci sia stato nulla da fare Per quanto riguarda invece l'omicidio della piadineria Lido Adriano, Maila Conti ha chiesto la misura degli arresti domiciliari al giudice è accaduto questo in provincia di Ravenna, ha colpito con una coltellata mortale Leonardo Politi La donna sostiene però che sia trattata di legittima difesa, naturalmente sarà ai giudici stabilire la dinamica di questo omicidio E poi vi raccontiamo la storia di Alex che è nato donna, ha fatto il cambio di sesso e finalmente, secondo quanto racconta, può registrarsi da uomo all'anagrafe con il nome maschile perché è arrivata una sentenza del tribunale, questo ragazzo vive a Sarmato e dunque potrà completare definitivamente il cambio di sesso C'è poi la questione del carmine aperto perché il restauro è sostanzialmente concluso però non si trova, i gestori, coloro che hanno vinto l'appalto non trovano, il gestore della caffetteria interna e dunque rischia di slittare l'inaugurazione proprio per questa difficoltà a trovare chi possa gestire il bar all'interno del carmine Chiudiamo con lo sport, il Piacenza domani è atteso da una amichevole alle 15 al Bertocchi contro la Pro Vercelli altra squadra di Serie C prove generali del debutto che ci sarà il 25 agosto a Vicenza contro l'Arzignano il DS Matteassi continua però a puntellare la squadra salto a Millesi per rinforzare ulteriormente l'organico bianco-rosso Tutto questo e molto altro sul nostro sito www.liberta.it e ovviamente nel TGL